Ciao tesori e tesorie, come state? Spero bene, spero che avete passato delle vacanze e delle feste serene. Io sono tornata, mi sono presa già la febbre, di nuovo, vi dico anche perché, e sono anche senza voce. Ho trovato la neve dove sono stata e mi sono fregata completamente. Nel tornare ho visto che nel mio canale si sono cancellate molte persone. Io per queste persone non ho molto da dire, non solo che le rispetto, solo che le rispetto perché se una cosa non piace è giusto che una persona si cancella e quindi li saluto con affetto. E per quanto riguarda i miei video in inglese che magari possono disturbare qualcuno, io li faccio perché ho voglia di condividere sia in italiano che in inglese, non ci vedo niente di male. Anzi, secondo me dovremo farlo più persone possibile perché è una cosa bella. Cioè non è che lo devo fare solo io, se magari avete piacere fatelo anche voi più possibile perché penso che è bello fare video sia in italiano che in inglese, è una cosa comunque che convolge un po' tutti. Quindi è una cosa bella. Per quanto mi riguarda del canale, ribadisco che il mio canale è un canale di hobby e che non uso questo canale chissà per quale scopo, chissà che cosa mi senta io. No, per me è un hobby, lo condivido e a chi piace e ha piacere condividerlo con me, mi fa piacere. Chi gli crea un disturbo che si vuole cancellare, non mi vuole che la visualizzazione, per me non è un problema, per me rimane sempre un hobby, non ho intenzione di chiudere il canale anche se dovessi rimanere a zero iscritti, non lo chiudo. Per me è una cosa che io vivo così, come 5 minuti di relax, tutto qua. Ci tenevo a specificarlo. Vi mando un bacio grande, vi lascio col tutorial, per chi lo vuole vedere lo vede, per chi non lo vuole vedere non ha un problema e lo farò anche in versione inglese. Ciao tesorio e tesorio! Grazie! 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 Grazie!